E' Rendano perché Rendano è il nostro teatro di tradizione, è il teatro più bello di Calabria, è quello che ci dà più emozioni. Tra l'altro ha 800 posti, quindi ci dà la possibilità di accontentare più gente possibile. Si vedranno delle novità, perché Consedificio è stato scritto il 2014, ovviamente sono passati 5 anni, quindi l'attualità è molto cambiata e noi cerchiamo un poco di ringorrela, quindi ci saranno molte cose attivanti all'attualità, proprio più attuale possibile. Si riderà, si riderà perché Consedificio ormai è lei. Siamo alla 34esima repica, quindi lo possiamo dire con assoluta certezza che si ride, ma non solo, si pure pensa ogni tanto perché è lo spirito della terra di Piero, far cercare di lanciare dei passaggi, seppure semplici, comunque secondo noi molto importanti, però sempre con sorriso sulla bocca. Diciamo che la terra di Piero ha stravolto le vite di molti di noi, perché la terra di Piero, come diciamo sempre, è un sorriso, ma è anche il volto della cosenza che più ci piace, la cosenza solidale, la cosenza che è molto anti su alcune cose, per esempio sul fascismo, sul razzismo e su tante altre tematiche. E' la cosenza che ci piace, è la cosenza che per fortuna, io dico sempre che non sta né dietro né davanti alla terra di Piero, ma sta a fianco alla terra di Piero perché noi ci siamo sempre sentiti dal 2011 ad ora supportati da questa città. Questa città ha tante problematiche, lo sappiamo bene, però ha uno spirito solidale che io non ho mai riscontrato in nessuna delle città che ho visitato e ne ho viste parecchie, quindi le nostre vite vanno di pari passo con la nostra cosenza e sono certo che continuerà per molto tempo ancora perché le radici sono belle forti. Grazie a tutti!